Questo stralcio doveva essere finito già nel 2022, ha subito tre perizie supplettive, un aumento dei costi e un aumento anche dei tempi. Deve ancora essere concluso. Quando finirà questo stralcio? Sostanzialmente è finito, lo utilizzeremo già a settembre per il Festival della Filosofia e quindi siamo già operativi e naturalmente c'è stato un Covid in mezzo, una guerra, ci sono stati mille problemi, ma nonostante i mille problemi l'amministrazione quando promette una cosa la mantiene. Grazie.